It's time of the morphe ragazzi sono Trico Trico e bentornati al canale per oggi siamo qui tornati con un video di Cold War perché vi voglio portare il primo episodio della guida alle classi Avevo già portato un video riguardante le classi e come avere le classi più forti in assoluto nel gioco però in questo caso tra l'altro parentesi vi invito a guardarlo però in questo caso andremo a vedere le classi migliori per un determinato ambito nel gioco quindi vi andrò anche a guidare su come usarle al meglio e dove usarle al meglio Iniziamo subito questa rubrica col primo episodio partendo dal Bullfrog che è la mitraglietta migliore a mio parere vi ricordo di lasciare un bel like un commento e di iscrivervi perché veramente ragazzi stiamo andando una bomba io vi ringrazio un botto per tutto il supporto che mi state dando io vi dico soltanto continuate così lasciando un'iscrizione e un like e niente condividete anche con i vostri amici e niente ragazzi basta con le chiacchiere iniziamo pure col video Oggi vi voglio portare il Bullfrog perché a mio parere è come ho detto poco fa la mitraglietta più forte del gioco questo perché ha un caricatore grandissimo il danno è abbastanza buono e la mobilità è altissima questa classe l'ho pensata soprattutto per pushare e per mantenere una linea diciamo in mezzo alle mappe nel senso per far arrivare i nemici a ondate e eliminarli visto che abbiamo comunque un caricatore grandissimo Ora passiamo subito alla classe e come è composta benissimo questa è la classe come potete vedere ottiche non ho messo nulla per il semplice motivo che vi lascio completa libertà perché a mio parere almeno personalmente io mi trovo molto meglio con il mirino metallico per il semplice motivo che non c'è ingrandimento quindi mi so gestire meglio con la mira eccetera altrimenti se proprio devo usare un accessorio io consiglio il Quick Dot perché mi piace molto e ha 1.25 basta di ingrandimento oppure il Microflex LED Anche questo non ha tantissimo ingrandimento quindi a mio parere è ottimo per pushare in caso mai ci beccassimo qualche nemico molto vicino Passiamo alla volata La volata ho scelto di utilizzare il compensatore Spetnaz perché ha più 12 di rinculo verticale e ha solo un meno 8 di controllo rinculo orizzontale quindi sarà più semplice anche per chi è da pad controllare il rinculo con quest'arma Successivamente passiamo alla canna qua ve ne consiglio due vi consiglio o la rigata da 7.6 in modo che avete più 25% di portata di danni effettiva quindi se voi volete pushare potete farlo benissimo perché i danni non cadranno prima Quindi anche nelle mappe un pochino più grandi potete usare quest'arma per pushare e ha soltanto un meno 5% di velocità di movimento scatto che è praticamente nullo Altrimenti io vi consiglio la Liberator da 8.1 perché ha più 100% velocità proiettili che per chi ha visto il video sulle classi più forti sa cosa serve Quindi ragazzi se non l'avete ancora fatto andatelo a vedere perché la velocità proiettili è il parametro praticamente più importante di questo gioco quindi mi raccomando guardatevi il video Niente l'unico malus che ha questa Liberator da 8.1 è meno 25% velocità di movimento mirando il che la rende migliore per come ho detto prima mantenere una linea di controllo all'interno di una mappa Quindi se voi volete un'arma dove volete che i nemici arrivino verso di voi io vi consiglio di usare il Bullfrog con la Liberator da 8.1 Continuando nel corpo dell'arma io vi consiglio il designatore bersaglio KGB perché da più 60 distanza rivelazione modalità mirino e nessun tipo di contro Quindi questa a mio parere è la migliore anche perché la distanza rivelazione ne ho parlato tantissimo nel video su come vedere meglio i nemici su Black Ops Cold War Che sta andando una bomba quel video quindi ragazzi io vi consiglio di andarlo a vedere lo trovate o in descrizione o nel canale nella playlist di Black Ops Cold War Mi raccomando guardatelo perché veramente vi aiuterebbe un sacco e questo accessorio è fantastico Successivamente nel sottocanna io consiglio il calcio anteriore quello normalissimo perché da ovviamente un altro più 15 di rinculo orizzontale Visto che prima ne abbiamo perso un po' con l'accessorio per migliorare il rinculo verticale con questo orizzontale diciamo che è meglio Altrimenti se non volete quella se proprio non riuscite a sopportare il rinculo verticale io vi consiglio tra virgolette l'ultima Anche se ha veramente un po' di malus di movimento sia sparando sia mirando sia che movimento normale Quindi diciamo che si sono poco sono meno 6% però visto che stiamo cercando di fare una classe incentrata comunque su una mitragliata quindi sul movimento diciamo che sono cose che vogliamo evitare Successivamente caricatore io vi consiglio lo speed loader vandal perché ha solo meno 6 di tempo modalità mirino però ha più 40 velocità di ricarica e più 33 munizioni iniziali Non è tantissimo però è quello che ricarica più velocemente Altrimenti se proprio non volete usare quello potete usare il caricatore rapido da 85 colpi VDV che è più consigliabile se tenete appunto come detto prima una linea nella mappa E volete far arrivare voi i nemici perché se pushiamo con meno 25% di tempo modalità mirino mi sto impappinando Diciamo che poi diventa un piccolo problema se ci sono tanti nemici Mentre se voi pushate e sapete già da dove arrivano i nemici e se riuscite sempre a tenere il mirino nel posto giusto come tra l'altro vi ho fatto vedere nello scorso video Che anche questo ve lo rimando in descrizione non sarà diciamo un grosso problema Andiamo ora all'impugnatura che io vi consiglio la serpent perché appunto per velocità vi aumenta del più 25 la modalità mirino E soltanto un meno 10 di tempo di scattafuoco però se noi non corriamo tanto e ci gestiamo bene la corsa diciamo che possiamo eliminare totalmente quel malus Altrimenti vi consiglio quella sotto che è l'elastico gru Dà un più 30 modalità mirino più 90 resistenza al barcollamento quindi se non siete tanto sicuri della vostra mira e comunque magari vi incasinate quando l'arma barcolla molto Io vi consiglio questa però ricordatevi che avrete un meno 15 transizione da scattafuoco e meno 10 velocità di movimento sparando Passiamo ora al calcio regolabile io vi consiglio assolutamente il pick up ms pet nuts perché dà un più 5 velocità movimento sparando Che abbiamo perso un po' prima e più 15 di movimento mirando che è strautile ovviamente in una mitraglietta Dà soltanto un meno 15 precisione senza mirare però non ce ne frega sinceramente Successivamente la secondaria io vi consiglio sinceramente lo shotgun perché diciamo la verità in questa classe la secondaria non ha molto senso visto che è tutta concentrata sul bullfrog Quindi se voi volete utilizzare uno shotgun fatelo Su nuketown magari sarebbe più consigliato se proprio volete pushare o volete uccidere quelli che vi stanno a loro volta uccidendo con lo shotgun Vi consiglio o l'hower o quello che vi pare a voi anche il gallo io preferisco un po' l'hower perché ha un pochino più di danno e c'è più probabilità che io shoti con un colpo Successivamente nel tattico io assolutamente vi consiglio lo stimolante perché pusherete un botto quindi lo stimolante serve tanto anche se state fermi Magari siete nella parte centrale dove ci sono i boost su nuketown vi lanciano una granata cosa fate andate un po' indietro e usate lo stimolante visto che un po' di danno lo beccherete Successivamente io vi consiglio la semtex perché è un po' più comoda a mio parere non dovrete tanto calcolare sul fatto di oddio se la lancio lì dove rimbalza Quindi semtex lanci rimane attaccato in faccia a qualcuno basta andate tranquilli Successivamente come potenziamento da campo io personalmente utilizzo la mina di prossimità però se proprio volete potrete usare anche il pacchetto assalto Se voi volete tenere una diciamo linea centrale perché vi lanciate il pacchettino e niente fate i bonus in più per ogni uccisione quindi molto semplice con quest'arma mi raccomando anche prendere killstreak Successivamente sui perk io vi consiglio assolutamente maschera tattica perché se vi lanciano qualcosa state tranquilli Come specialità 2 sciacallo perché se pushate o se anche state fermi dovrete andare prima o poi a prendere qualche munizione E come specialità 3 ninja perché fate meno rumore, pushiamo ci sentiranno di meno C'è resistenza al microfono da campo che su nuketown e su molte mappe viene usato tanto soprattutto per le sfide per le camo però non mi ricordo bene E il nostro personaggio parla solo se necessario Wildcard ovviamente dovremmo usare pistolero questo mi sembrava ovvio per avere gli 8 accessori sul bullfrog E nient'altro come utilizzare al meglio questa classe? Io come vi ho detto prima all'inizio del video vi consiglio assolutamente di partire a bomba e cercare di prendere la metà della mappa Se siete abbastanza bravi il centro della mappa lo riuscirete a prendere perché avrete un caricatore molto ampio nell'arma Quindi si spera riusciate a prendere il mezzo della mappa e poi dovrete soltanto aspettare i nemici che arrivano Come vi avevo detto nel video di Cold War sui 5 consigli per iniziare che vi consiglio anche quello di guardare Dove vi dicevo utilizzate la mappa a zone pulite le zone Le zone con questa classe dovranno essere diciamo parallele nel senso dovrete tirare una linea centrale all'interno della mappa In modo che sapete di non pushare troppo se ovviamente utilizzate il setup per non pushare per aspettare i giocatori col bullfrog Quindi sapete che i nemici arriveranno da una parte e voi dovrete soltanto aspettare non camperando ovviamente però muovendovi nella parte centrale della mappa Poi potrete pushare un pochino di più a seconda dei nemici potrete indietreggiare un pochino di meno E quindi avrete il controllo avendo un'arma così veloce e con così tanti colpi e comunque con un danno abbastanza elevato Se invece volete pushare lista voi perché avrete un'arma come ho detto poco fa con caricatore grandissimo quindi potrete fare tutti i giri che volete E poi se proprio le robe si mattono male avete di secondaria uno shotgun Se pushate fate tanti punti poi avrete una certa anche il potenziamento da campo che vi permetterà di fare altri punti E quindi infine avrete anche le killstreak Quindi ragazzi il video finisce qua io spero vi sia stato d'aiuto e niente altro ragazzi lasciate un bel like un commento Io vi ringrazio ancora tantissimo per la visione Attivate la campanella condividete con i vostri amici e niente ragazzi noi ci becchiamo al prossimo video Bella rega